Buonasera, buonasera, benvenuto a tutti e a tutti, io sono Francesca Angeleri del Corriere della Sera, Paolo Borzacchiello. Ciao, buonasera. Intanto, mentre entravamo, entrambi vogliamo ringraziare Reale Mutua per questa serata. E anche io, perché una cosa del genere secondo me è sempre bellissima, quindi io sono spudoratissimo nel ringraziare chi permette a tante persone di incontrarsi, di parlare di cose belle, quindi mi unisco al ringraziamento. Grazie mille, grazie a voi. E grazie anche al tassista che mi ha accompagnato. Cos'è successo? È successo che ho chiesto bene e mi è stato dato, perché ero a un evento prima di venire e ho chiesto al tassista, mi raccomando, con un certo piglio perché mi aspettano, e lui l'ha presa con un certo piglio, solo che a metà strada si è schiantato, io ho preso una testata violentissima, mi fa devo chiamare i medici, dico non c'è problema, mi chiami un altro taxi, quindi ha fatto fuori due gomme, io ho preso una craniata che qualsiasi cosa dirò stasera potrebbe essere viziato da questo. Ho chiesto troppo bene secondo me. Hai chiesto troppo bene. Ho chiesto un altro taxi e alla fine sono arrivato praticamente in anticipo, nonostante questo… Sì, quella decina di minuti prima. Sì, mi sono preso un accidente, aveva canciato il punto, vedo che imposta le curve bene, bam, ho tirato giù un moccolo di quelli potentissimi e… Adesso ti verso subito dell'acqua. Sì, sì, va bene, no, sono tranquillo adesso, dico solo se dirò cose strane più del solito. Beh, allora io farei un altro applauso di incoraggiamento. Dai, un aneddoto così. Dicevamo poco prima che iniziasse la serata con i ragazzi e le ragazze del circolo, no? Borzacchiello sta portando un bel po' di gente, non convenzionale per questo posto. Borzacchiello sposta un po' le masse. Che bello. È bello o no? Sposto la mia massa e muovo tanta gente e voi non avete idea la gioia che è. Non tanto, Francesca, per ovviamente la parte di soddisfazione di avere un sacco di persone che ti seguono, è veramente bello fare presentazioni in cui c'è gente. Io assisto a volte a presentazioni di colleghi, di libri… Anche bravi. Anche bravi che però, ad alcuni lo dico anche schiettamente, bravi, ma più bravi anche di me secondo me. Vabbè, qua sta. Non esageriamo. Non esageriamo. Bravi diversi, mettiamola così. Sì, perché poi non vorrei che si pensasse questo invecchia prende le botte in testa e diventa umile. No, no, non voglio ammazzarmi prima di diventare umile, però bravi diversi che però io assisto e sono amico, quindi assisto con affetto e dopo 3-4 minuti sei lì seduto e cominci a invocare gli angeli della morte e dici ti prego qualcuno mi porti via. E io ho sempre temuto questa cosa perché il mio pensiero è… parlo di cose che possono cambiare la vita delle persone, possono essere determinanti nella vita delle persone. Se lo racconti male, se annoi la gente, cioè poi nessuno le ascolta e quindi che peccato. E allora io da sempre ho detto voglio essere bravo non soltanto a livello tecnico ma bravo a raccontarlo, ci ho lavorato, ho usato i social quando tanti miei colleghi li snobbavano perché non erano… invece no, ho detto voglio arrivare ai social perché voglio imparare a usarli perché è il canale per arrivare alle persone. Voglio fare teatro e farlo divertente perché è il canale con cui posso raggiungere tanta gente e tutti i giorni ci dedico tempo ad avere le sale piene. Però è una cosa che va fatta secondo me soprattutto quando si parla di cose che possono essere determinanti in questo momento storico soprattutto per il nostro benessere oltre che per il benessere della società. Infatti io volevo iniziare un po' questa conversazione che sarà una conversazione tra di noi ma tra di noi no? Se si può c'è la parte delle domande. Eh questo è importante quindi insomma sentiamoci anche proprio liberi di intervenire, sentiamoci plurale maestate di intervenire. Io volevo dirti perché ho accettato con grande piacere di fare questa, di moderare questo incontro perché ho pensato è quasi Natale e mi faccio un regalo no? Wow. E' vero. Poi cioè stai intervistando un uomo quasi morto durante un incidente cioè oh questo qui domani sul Corriere vediamo noto autore Bresciano rischia poi drammatizziamolo un po'. Bresciano mi raccomando. Allora entro mezz'ora costruirò nel mio cervello un incidente epocale per cui quasi chiaramente lo scriverò per prima giusto? Esatto cioè poi ti do dei dettagli che sto inventando in questo momento. Grazie. No è vero però proprio è stato questo perché ne parlavamo poco fa no? A parte il fatto che io lavoro con la parola quindi è una questione quando lavori con le parole hai un rapporto abbastanza carnale con loro no? Soprattutto tipo con la punteggiatura. Bello carnale. Sì sì sì. Saper diventare una serata non so se la botta in testa ma carnale mi piace. Carnale sì sì. Le virgole. Le virgole. I puntini. Vuoi una roba perversa? Punto e virgola. Il punto e virgola è un rompicoglioni. Cioè il punto e virgola non ho mai capito voi avete mai capito cosa serve davvero è un po' così un po' è un po' come quelli voti destra sinistra non so devo pensare che è un po' così è un po' così in giro. Il punto e virgola è una cosa che secondo me tra un po' torno era di moda non so come Dovrebbe ma è difficile sai è difficile tu pensa che questa cosa tu lo usi punto e virgola così a tratti però ogni tanto quando mi impegno sì quando faccio i miei elenchi puntati però questa cosa che hai detto tu pensa che è stato oggetto di un mio speech di recente un mio monologo in un evento cui ero parte dove la slide ho fatto un'ora su ci stanno rubando le virgole e purtroppo questa cosa che colgo l'occasione perché è uno stimolo che mi ha acceso questa cosa che noi comunichiamo tutti i giorni soprattutto in modo molto veloce con i social con le chat whatsapp in particolare o i suoi derivati ci stanno deprivando della capacità di utilizzare le virgole e le parentesi io le uso un casino io le uso un casino e anche sui vari sulle varie chat comunque tento di preservare però la verità che abbiamo sostituito la virgola con l'invio quando ricevete i messaggi che io amo tantissimo ciao sono paolo perché dici cazzo scrivi una frase di tre righe di senso compiuto ma se tu condizioni il cervello a non pensare con le virgole e a pensare per periodi super brevi sempre con il verbo presente super segmentati sincopati il cervello poi si plasma a non pensare in periodi ampi ed estesi e se perdi questa capacità di periodare le frasi nel cervello perdi la capacità di vivere una realtà ricca sfaccettata è un pericolo mica da poco anche di porti degli obiettivi donna di sì di concepirti altro oltre e altro dico io anche le parentesi senza parentesi muori senza parentesi è tutto un quello che succede è tutto quello che c'è da vedere quello che mi capita è tutto quello che deve capitarmi sto male oggi è sto male sempre perché concepirci tra parentesi vuol dire se anche una giornata storta è una parentesi e se tu togli il cervello le parentesi è tutto un qui e ora ma il qui e ora ragazzi e ragazzi miei ci stronca e va bene dieci minuti al giorno qui e ora ok meditiamo tutti io sono uno che quando ci laviamo i denti ecco lavati i denti va bene il tinnatana me lo faccio anch'io la mattina mi lavo i denti quando mi pulisco il naso ok che comunque è un qui e ora importante ma non più di un quarto d'ora al giorno e poi e poi dopamina sogni parentesi virgole se tu continui qui e ora ammazzi la dopamina chimicamente continui a produrre ormoni che si chiamano here and now qui e ora gli ormoni della stasi del del divano quelli che vi vengono dopo sei mesi di fidanzamento avete presente il passaggio tra amore io e te non abbiamo bisogno di televisione perché io e te siamo speciali quando trombata dappertutto in tutti gli angoli come l'alito non lo senti le ascelle non le senti tutte quelle robe lì che il cervello cancella per motivi chiaramente importanti sono minorenni intanto per sapere no ok e dopo un po invece l'alito lo senti no ecco si chiamano ormoni here and now quelli lì sono fomentati dal qui e ora mi concentro penso al pantalone mi lavo i denti guarda che bel canino mi spazzolo il canino e penso al canino il problema che senza dopamina cioè andare oltre divagare sognare perdiamo la capacità di vivere quindi e le parentesi ci aiutano moltissimo anche a concepirci altrove oltre da qualche altra parte e di sognare a occhi aperti che è una delle cose che ci rende non artificiali ma umani e che tutto sta modo del qui e ora qui ora a volte può ammazzare un po cioè vabbè cinque minuti lavati il canino pensaci oh che bel canino e però poi pensa cosa puoi fare da grande che non si finisce mai di sognare così ecco vedi cioè capito sì sì potrebbe ma torino 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 io non so come cazzo mai che torino bisogna sempre dirglielo una volta di far l'applauso qual è la vostra città la vostra città rivale qual è c'è una città rivale milano a milano sono più bravi fa un applauso più forte a milano guarda a milano no no perché in realtà perché volevo dicevo prima che mi sono fatta un regalo perché lavorando con le parole e dando peso alle parole no io ho mio marito che quando mi dico ma io ti amo tantissimo e lui così ah sì bla bla mi fa così no e dando peso alle parole io penso veramente che il lavoro che stai che stai facendo tu sia molto importante perché glielo accennavo prima il fatto di la nostra società noi siamo tendenzialmente più facilmente male che bene no e una delle cose che ci fa stare veramente male peggio di tante altre cose ma io lo associo a insomma all'abuso di agli abusi in generale all'abuso di alcol anche è il parlare male parlare male agli altri certo ma soprattutto il parlare male a se stessi perché io penso che sia impossibile e lo dico da una che insomma per lavoro parla e scrive parlare male o spiegare male o scrivere male per qualcuno se uno non è in grado di parlarsi bene no esatto è una sorta di educazione proprio educazione bravissima avrei usato la stessa parola educazione e il problema è che siamo ci stiamo anche in questo caso condizionando a un linguaggio che sempre più propenso farci stare male per ragioni economiche sostanzialmente perché per ragioni economiche e perché allora in questo momento storico dove la soglia di attenzione dell'essere umano è ai minimi storici per avere qualcuno che ti clicca sul link devi sempre cercare il titolo più aggressivo più violento sfruttando dinamiche ineliminabili del cervello umano tra cui il negativity bias cioè la nostra attrazione violenta per il male siamo molto più attratti dal male che dal bene come esseri umani siamo più attratti dalle notizie brutte che da quelle belle quelle belle non ci interessano più di tanto siamo più attratti dall'incidente in autostrada andate a vedervi le recensioni di un mio libro ok cominciate a scorrerle cinque stelle cinque stelle cinque stelle non le leggete neanche non trovi quella da una stella che cosa fai ti fermi e guardi perché vuoi vedere la recensione brutta io stesso quando me le ogni tanto mi auto masturbo su questa roba auto masturbo no però è tautologico masturbare va bene da uno fa no però no si può fare anche in coppia vabbè cose mie scusate stavo pensando a questo ciclo vitale però dico un onanismo che è più raffinato ok perché sei che sta male in questa sala così e possiamo dirlo in dieci modi diversi fra l'altro questa è la libertà di parola e però ma sto lì guardo su amazon 5 5 5 dico sono felice però non mi non vedo quella una stella dico fammi vedere questo è il negativity bias voi scorrete i titoli e quello che è più accattivante da questo punto di vista e quindi il linguaggio si sta portando verso un ti attiro ti attiro ti attiro ok e questa cosa però ci condiziona perché noi siamo un po la somma delle parole che ci raccontano siamo un po la somma delle parole che leggiamo che ascoltiamo delle persone che abbiamo intorno quindi se tu ti disabitui a parlare bene ti mal educhi rischi poi di impoverire il linguaggio o meglio di deviarlo di selezionarlo verso forme linguistiche che ti abbruttiscono un po e questa cosa poi ci porta a stare male perché se io parlo male a me stesso il mio cervello reagisce in modi prevedibili produce ormoni dello stress mi impedisce di pensare lucidamente così via e quindi poi non riesco neanche a parlare bene con gli altri quindi il lavorio interiore è sicuramente quello di selezionare le parole di selezionare le fonti io per esempio che sono maniacale sulle parole questo rapporto carnale che tu hai prima definito quando è nato questo rapporto è nato da piccolo secondo me da piccolo allora mi raccontano che io già da piccolo fossi affascinato e attratto dalle parole copiavo le scritte sulle scatole ho imparato a scrivere per i fatti miei e poi è nato non parlando nel senso che ho sempre avuto un rapporto di amore odio con le parole perché ne avevo tantissime in testa e non riuscivo a dirle perché perché mi segue un po ha letto qualcosa lo sa molto balbuziente molto timido cioè proprio tu pensa la condanna tante parole in testa e non riuscire a dirle io avevo un giramento di palle quando alzavo la mano come Beethoven sordo ecco quelle robe lì bella questa me l'hai registrata Giovanni questa perché domani sui miei posti sarà il Corriere della Sera dice sei come Beethoven più o meno la tradurrò così mettiamo qualche pezzo il titolo positivo però così è bello bello poi non so se fa click però a me di sicuro fa un sacco di click comunque è natale però insomma e dai ci mi sono fatto un regalo anch'io avevo questa frustrazione di sapere sapevo di poterla spiegare bene e però balbettando dovevo cioè fare non so se qualcuno ha mai sentito qualcuno che balbetta sai che devi incastrare le parole devi fare dei giri strani per non fermarti e quindi questa cosa qua mi dava dal lato madonna una rabbia dall'altro mi faceva lavorare per cercare diecimila modi per dire la stessa cosa poi ho avuto la fortuna in questo caso di essere sempre malato da piccolo quindi sempre in ospedale sempre chiuso in casa sempre malato una storia proprio tipo libro cuore e quindi leggevo tantissimo e nel leggere tantissimo chiaramente il cervello ha cominciato a capire che con le parole potevo fare delle cose super interessanti quindi nasce da piccolo poi ho scritto sempre ho scritto in prima media un romanzo a matita su un quaderno poi lo scrivo nell'ultimo libro rubavo la macchina da scrivere di mia madre la olivetti 32 il mio primo vero romanzo se leggete l'ingraziamenti del libro l'aneddoto finale mi piacerebbe che dole geste perché ringraziamenti a volte non si leggono questo invece è una sorta di capitolo all'interno del libro e vi parla di una storia vera autentica che mi è occorso da piccino e che per me può essere molto utile insomma io che scrivo il primo romanzo lo mando mondo sulla olivetti ho dovuto usare i soldi delle paghette per comprarmi il nastrino perché mia madre non me lo comprava unica copia perché la carta carbone costava tanto mando in mano scritto a mondadori e un tizio mi scrive mi ha scritto davvero ai tempi una lettera a mano dicendo ho letto sul libro non rientra nei nostri standard editoriali vabbè sì capi cioè era un modo elegante per dirmi è una cagata però succederebbe più adesso però mi ha detto continui a scrivere che vedrà che prima o poi ce la farà così uno di mondadori e quando infatti francesco con cui che è il mio editor mi ha detto vorrei portare la parola magica in qualche casa editrice io gli ho detto o ai mondadori o piuttosto me lo tengo nel cassetto perché volevo rispondere a quel signore la dicendo guarda hai visto che grazie a te grazie a te io non ho mai smesso di pensare che in mondadori ci fosse qualcuno di vero che rispondeva e quindi lì è stato l'amore per mondadori che l'unica a cui l'ho mandato perché c'era una copia 400 pagine non avevo i soldi ero piccolino immaginatevi un'epoca in cui c'era dove ho dovuto chiamare mia zia di milano perché aveva le pagine le pagine la guida telefonica per cercare l'indirizzo non c'erano i computer cioè un altro pianeta no quindi questo manoscritto mondadori e mi è arrivata una lettera e che pagherei cioè tutto quello che ha Giovanni per così e quindi l'amore delle parole nasce da piccolo insomma non sapevo che fare perché a casa malato leggere scrivere io leggevo scrivevo scrivevo poesie avevo un quaderno ad anelli con le poesie non scrivi più no no però poesie roba felice cioè gioia quindi fate conto che leopardi per me quando lo leggevo dicevo guarda che buon amore che ha quest'uomo qua guarda com'è felice prenderò un modello da lui e io dicevo leggevo a me stesso di leopardi quello che si getta non so se avete mi getto qua a terra e grido e strepito e piango amaro e noia la vita null'altro io dicevo come si fa a essere così felice e da lì ho detto scriverò ho sempre voluto scrivere la cosa bella di questo libro è che ha un punto centrale no che per una che fa la giornalista è fondamentale cioè tu ti concentri sulle domande cioè non solo quello che diciamo ma soprattutto quello che chiediamo ma soprattutto quello che ci chiediamo no quali sono le buone domande poi bisogna veramente leggerlo perché ci sono io comunque non l'ho ancora finito faccio lo dico ma perché me lo sto veramente sono contento cioè voglio arrivare al 2024 con delle domande migliori se uno sa farsi le domande giuste francesca la vita ti cambia davvero e questo libro pensa così rispondo anche alla domanda nasce proprio dal mio rendermi conto che nonostante sui social da qualche anno ho iniziato con basta dirlo che andrebbe idealmente se non l'avete letto messo fatti uno dei miei progetti e farci un cofanetto basta dirlo così le parole e chiedi bene le domande perché ho sempre pensato se insegno alle persone a usare bene le parole faccio un bene a me stesso al mondo eccetera e questo libro nasce proprio dalla incapacità di farsi le domande incapacità riscontrata perché io ho aperto un anno e mezzo fa circa un programma su instagram la domenica se vi va di qualcuno lo segue le domande a paolo ok tutti gli altri domenica è gratis le mie risposte la gente mi fa le domande e nel mio cervello io mi considero penso di aver meritato quello che sto avendo perché ho sempre lavorato non ho mai chiesto niente a nessuno non ho avuto sconti sono partito malissimo cioè senza soldi senza supporto dei genitori quindi penso di avercela fatta lo dico perché mi sono fatto un mazzo e perché sono bravo cioè non ho botta di culo sicuramente c'è stato però sai la botta di culo ce l'hai una volta 25 anni per averle sale piene non è che nasce così ma al di là di questo mi sento comunque grato alla vita perché io sono qua intervistato in un posto bellissimo la gente mi fa l'applauso una giornalista che mi intervista decisamente più forte quindi mi sento grato grato a voi grato a voi perché alcuni volti li vedo tutte le volte e per me questa è una cosa di cui essere estremamente grato cioè persone che libro dopo libro tornano vengono ancora a sentire voglio dire è una cosa sappiatelo che non finirò mai di ringraziare il cielo e Gesù Gesù non so chi vi piace insomma scegliete il libro di marketing che vi piace di più per me e insomma questa è bruttissima però ha un suo senso ha un suo senso beh adesso chiedi bene ti sarà dato cioè il mio fare le pulci a certi dogmi si dovrebbe intuire morale apro questo programma dicendo mi sento grato condividerò valore cioè faccio una domanda io tutto il giorno la domenica sto nove ore al telefono vivendo anche un po' a rispondere alle domande cioè è tempo non me ne viene in tasca niente cioè perché non è una cosa promozionale non me ne viene in tasca niente però è proprio un cioè allora non è vero perché poi se ho le sale così piene è perché evidentemente poi le persone capiscono il valore che cerco di generare in qualche modo me lo restituiscono però diciamo non è il motivo principale il motivo principale è chi non può iscriversi al mio portale o non legge libri o altro volendo comunque la domenica comunque si porta a casa nove ore di risposte ok e nasce il programma così faccio la prima puntata che si intitolava chiedi a paolo e poi sotto nel box fammi la tua domanda che nel mio cervello era mi faranno delle domande titolo del programma le domande a paolo io ho pensato non so perché mi chiederanno qualcosa prima che mi arriva nel box la mia vita fa schifo sul lavoro le cose non vanno bene e sono disperato io rispondo dicendo ok grazie per avermelo detto così e questo qua si incazza come un puma mi dice tu non puoi bullizzarmi dico no amico non t'ho bullizzato non mi ha chiesto niente io rispondo a tono cioè se mia figlia mi chiede papà puoi alzare il volume della musica io rispondo sì oppure no posso sì ho le manine però non glielo alzo perché se mi chiedi se posso io ti rispondo sì e però ha imparato a chiedere bene e com'è chiedere bene papà per cortesia alzi il volume della musica ora io dico ok la vita che avete è il risultato delle domande che sapete fare stop stop e poi cominciano ad arrivare quindi oltre frasi per cui mi rendo conto che tanta gente fa fatica a elaborare la domanda è una difficoltà enorme questa solo che se tu non riesci a elaborare la domanda rispetto a una situazione che non ti piace e ti limiti a statuirla a descriverla e da lì non esci ma questa è una castrazione antropologica sociale o va secondo te ricondotta esclusivamente a dei limiti personali perché io penso che sia un mix di tutte e due le cose un mix io però penso che sia molto educativo cioè guarda l'ho scritto oggi in un post che ero un po' ispirato se vi va di vedervelo su Instagram poi dicevo se noi vogliamo sapere come funzioniamo davvero guardiamo un bambino se io faccio una serata del genere o faccio teatro o una convention è probabile che qualcuno mi alzi la mano e mi dica posso farti Paolo una domanda stupida? posso farti una domanda sciocca? e magari anche voi qualche volta a qualcuno l'avete chiesta così ecco se tu guardi un bambino forse a te in un'intervista mi sa di sì mi ricordo beh beh infatti perché poi dopo hai finito dicendo cazzo te l'ho chiesta però ci sta perché ma il bambino piccolo, mia figlia piccoletta non lo direbbe mai non perché è più brava di te perché nessuno le ha detto che fa domande sciocche ecco quindi che molto il nostro la nostra incapacità in realtà è acquisita ma perché ce l'hanno detto? risalendo guarda non lo so a volte perché non abbiamo tempo a volte perché siamo esseri umani quindi tendiamo a giudicare male quello che non capiamo e capire un bambino che fa domande richiede uno sforzo avete letto il piccolo principe ci voglio dire i grandi fanno fatica a certe cose a farle e quindi vai a saperlo perché ci castriamo penso che sia per maleducazione un associo di circolo vizioso che va a perpetrarsi generazione in generazione io se non sapessi le cose che so probabilmente direi anch'io così a mia figlia parlerei anch'io a mia figlia come parlano tanti altri genitori ma non per cattiva volontà questo sia chiaro io l'ho chiamato analfabetismo funzionale involontario cioè la maggioranza della gente non ha idea di quello che dice quando parla cioè lo sai in italiano ma non sai che cosa dici davvero non lo sai e questo è un tema è un tema che però noi possiamo svolgere liberandoci di questi dogmi che ci hanno messo in testa per cui certe cose non si dicono certe cose non si fanno certe domande sono stupide a volte il bambino è sano ti fa le domande che gli vengono in mente e te le fa pure buone talmente buone che non sai cosa rispondere e gli chiudi con perché è così che cavolo di domande fai e lo capisco però dalla qualità delle domande ripeto emerge la nostra capacità di uscire perché la la definizione la ridefinizione del linguaggio cioè se io ho un problema lì davanti a me io posso ridefinirlo in mille modi diversi e renderlo se volete anche più accettabile basta dirlo nasce con questo scopo cioè se io ho una situazione brutta la descrivo in modo diverso mi cambia mi cambia la percezione che ho di quello che mi sta capitando però sono sempre lì è come dire ho pestato una merda la chiamo in modo diverso non puzza più però sono sempre lì in quella strada che ho fatto quel pestone la domanda che cosa fa ti porta da un'altra parte ti fa andare da un'altra parte proprio cioè ti aggiunge una realtà a quella che tu hai ridefinito se io quindi non ho la capacità di farmi domande non ho la capacità di uscire dal mio mondo e di crearne degli altri e purtroppo ce ne facciamo un sacco di domande sbagliate perché se io mi chiedo non so vengo qua e il tassista fa l'incidente e io mi dovessi chiedere ma perché cavolo mi capitano queste brutte cose il cervello cosa fa? risponde ma risponde dando per scontato che la domanda certifichi una realtà vera cioè che mi capitano delle brutte cose quindi comincia a risponderti presupponendo che la mia vita sia fatta di brutte cose se io mi chiedo ma perché il mio compagno la mia compagna mia moglie mio marito perché lei mi tratta sempre male il cervello presuppone che quella roba lì sia l'unica realtà possibile quindi ti risponde Francesca e cosa vuoi che ti risponda? cose brutte ti peggiorano la vita e non esci cioè cambiare la domanda ti può portare dalla dimensione di sottone voglio dire ad essere veramente protagonista della scelta della è come creare dei multiversi uso una parola che adesso è molto in voga per chi guarda anche i film eccetera cioè io ho questo tavolo qua ok e la mia realtà è questa la domanda è come se io ne potessi creare un altro a fianco e posso crearne diecimila in cui io sono tra l'altro l'artefice la nominazione l'atto di Dio per cui nomini le cose succedono passa anche da quella parte lì capacità di creare mondi con le domande mondi a tua immagine e somiglianza fra l'altro che poi è quello che ci rende vabbè poi mi fermo a immagine e somiglianza di Dio certo cioè non mica perché siamo somiglianti perché abbiamo la barba o abbiamo l'aureola cioè perché possiamo creare il paradiso è il messaggio vero della Bibbia insomma l'obiettivo tuo credo non solo di questo libro ma di questo tuo lavoro e di rendere i tuoi lettori le persone sempre più autonome in questo processo sì però la cosa che mi ha colpito è che a un certo punto mentre introduci tutto quello che poi sarà nei vari capitoli che poi adesso ci spieghi come li hai costruiti a un certo punto dici anche lì una parolina magica no ma non adesso non mi ricordo bene come l'hai scritta però sostanzialmente il tema è comunque a voi non costerà sforzo voi leggerete esatto magicamente e funziona e questo è fantastico certo perché se no uno inizia a pensare ecco va bene allora io sono a dieta mi sono tolta il lattosio oppure faccio il ginnasio e adesso anche le parcerie sì sì è tutto un training tutto una esatto io amo scrivere dalla parola magica in poi visto che poi ha funzionato non so se avete letto la parola magica però insomma è un libro performante io ho sempre deciso di fare questa cosa cioè libri performanti libri che fanno il lavoro al posto vostro che è una cosa che si può fare fra l'altro perché mi sono accorto in prima persona soprattutto che noi diciamo di voler cambiare ma poi abbiamo una ritrosia molto forte al cambiamento anche quando il cambiamento ci porterebbe bene il problema della maggioranza delle persone noi due compresi è che se siamo abituati a stare male comunque il cervello lotterà per preservare l'abitudine anche lo stare male perché cambiare costa fatica se io ho dieci sinapsi nervose sto dando numeri chiaramente tangibili a caso ho un circuito di sinapsi nervose abituato a fare una certa cosa stare male fare una cosa che mi farebbe stare meglio ma che non non trova l'abitudine nel cervello per il cervello è spreco di energia e di zucchero quindi dice non te la faccio fare ecco perché tanti di voi sanno esattamente cosa dovrebbero fare e poi fanno esattamente il contrario ecco perché diciamo un sacco di cose e poi non le incarniamo con i nostri comportamenti se vi dovessi chiedere per chi di voi la salute è importante tutti tutti dai siete a Torino però alzate la mano a Milano a Milano alzano tutti la mano subito ok ok quindi per tutti di voi la salute è importante è fantastico facciamo un elenco delle cose che avete mangiato nell'ultima settimana delle sigarette che avete fumato dei rapporti disfunzionali che avete avuto eccetera vogliamo fare questo elenco vi rendereste conto che dirlo una cosa farlo un'altra e non siamo cattivi siamo un po' come Jessica Rabbit ci hanno disegnato così e allora nel mio libro cosa faccio io di solito creo delle strutture linguistiche che ti portano con l'inganno io sono un grande fan di Ulisse ok quindi che resta comunque il più figo di tutti dopo Aristotele e Ulisse nulla ma sì Cicerone dargli un pezzo Marco Oreglio è anche un figo Marco Oreglio figo però dal punto di vista del cervello le neuroscienze di oggi è un po' nemastico dimostrano in modo scientifico ethos pathos e logos cioè quando vuoi comunicare efficacemente con qualcuno Aristotele ti dice si credibile il decorum di Cicerone si credibile falli emozionare un po' cazzo e argomenta bene e non è che ci vuole 20.000 anni di storia ti dicono se vuoi parlare con qualcuno ethos serotonina pathos ossitocina logos dopamina punto non si esce da lì io mi ci sperdo le notte su questa roba e quindi ho detto sapendo questo il mio libro deve essere performante quindi se tu leggi il libro e subito è un cavallo di troia pazzesco ho creato delle strutture per cui tu leggi non pensi di dover fare niente ma intanto la domandina arriva il primo pezzo di ogni capitolo che è questo dialogo immaginario ecco perché c'è una struttura precisa certo perché è un architrave tutti i miei libri sono architonicamente parlando ben congegnati se voi leggete la parola magica allora leggete tutto di fila potete leggere poi tutti i grassetti poi tutti i corsivi e avreste tre romanzi in uno e tu puoi leggere tutti i grassetti di fila e ti fa un effetto puoi leggere tutti i corsivi di fila e ti fa un altro effetto puoi leggere tutto il romanzo di fila e ti fa un altro effetto ancora e ogni parte vive in sé e il libro questo pure tu leggi il primo pezzo di ogni capitolo è un dialogo immaginario quindi il cervello cosa fa? il discepolo e il maestro dice sì tanto sono due che non c'entrano un cazzo con me non devo cambiare questo non mi dà le istruzioni due sulla montagna che parlano mi posso rilassare e il maestro fa delle domande al discepolo che sono però pensate per essere astratte cioè sembra che stiamo parlando del caso concreto come se dovessi dirti perché c'era questo tizio che parlava con una persona a un certo punto lui guarda questa persona e chiede a questa persona cosa ti impedisce di fare qualcosa di diverso adesso? questa frase qua all'interno della domanda cosa ti impedisce di fare qualcosa di diverso adesso? voi cominciate a registrarla non potete non registrarla perché appena il cervello sente un tone up cioè un'inflessione verso l'alto di domanda attiva l'effetto zegiarnik cioè ho una domanda devo rispondere e tu non pensi che io stessi parlando di te ma nel tuo cervello sì e questo è l'effetto del libro per cui non sei attivato con adesso ti faccio la domanda mi devi rispondere che allora andrebbe in ritrosia ma ti racconto un maestro sai era la montagna c'era il vento e lui gli chiese cosa ti impedisce di fare e mentre te lo chiedo tu ci pensi è una sorta di ipnosi è un pattern ipnotico molto forte e poi ti riporto coi piedi per terra nella seconda parte dove ti spiego delle cose tecnicamente ti spiego un po' di vizi mentali così diciamo ok sto imparando ma intanto la domanda originaria sta già smacchinando e poi quando sei tutto concentrato quindi distratto perché più siamo concentrati più è facile il mio gesto è stato penso ok arriva l'abracadabra finale per cui tu sei tutto concentrato e preso e ti do una stilettata linguistica che va a chiudere il cerchio della domanda è tutto congegnato in modo che tu leggi e succedono delle cose molto fighe ti svegli di notte e dici oddio ma io non posso leggere un abracadabra puoi fare quello che vuoi vorrei leggere questo abracadabra prima di passare alle vostre domande perché secondo me quella è infatti giusto per ricordarsi quanto è importante tatuatevelo perché questo è il potere di Dio abracadabra avacadabra io creo cose buone con le parole se uno si ricorda questo prima di parlare cazzo ci pensa e se ci pensi vinci perché il mondo è di chi pensa prima di parlare e sa che cosa ottenere dalle parole le parole possono farvi ottenere tutto quello che volete o quasi tutto però dovete trattarle bene se no faranno di voi quello che vogliono o siete vittime delle parole oppure le governate come i maghi o finite come l'apprendista stregone di Ducasa e quando Topolino in fantasia fai i casini eccetera oppure diventate Gandalf il mago e poi tutto il pattern archetipico dell'alchimia nero bianco e vabbè robe così belle domani ce le andiamo a tatuare eh sì ma ce l'hai grosso eh lo so ok io non commento no però è la prima volta che mi viene detto il solito riso no quando l'abracadabra no vabbè ve lo volevo leggere perché io l'ho trovato molto quale che hai scelto il primo ah ok ok bello e poi passiamo alle vostre domande abracadabra pensa a qualcosa che vorresti fare che vorresti fare davvero e già questo secondo me apre un mondo no perché ora pensa al motivo ai motivi per cui credi nel non aver avuto ancora avuto il coraggio di farlo quel coraggio non l'avrai mai perché quel coraggio non esiste ci sei tu e c'è un'altra versione di te quella che fa le cose senza aspettare il momento giusto per farle perché nemmeno il momento giusto esiste esistono cose da fare lavori da cambiare relazioni da sciogliere o rapporti da creare ed esistono momenti compreso questo in cui stai leggendo nei quali ti rendi conto che finora hai perso tempo che quello che aspetti non arriverà mai che quel momento giusto che hai immaginato non esiste se non nella tua testa che cosa temi succeda di bello o di brutto facendo quella cosa per cui non credi di avere coraggio sì hai letto bene che cosa temi succeda di bello perché il coraggio più difficile da trovare è quello di splendere di stare bene di realizzare pienamente se stessi e per quale buon motivo non hai ancora fatto quello che sai in cuor tuo di dover fare di voler fare che tipo di soddisfazione stai perseguendo restando seduto dove sei le mani in mano e i piedi piantati a terra puoi fare altro pensa a tutte le persone che secondo te ci restrebbero male nel momento in cui iniziassi a splendere davvero pensa a tutti coloro che dal tuo fare restrebbero accecati così come lo sono dal sole gli stolti che non hanno abbastanza cuore per guardarlo e adesso sai che erano tutte scuse che l'unica cosa che va fatta è mettere in atto quello che hai in mente quello che hai pensato e distinto poche parole fa quel coraggio non arriverà mai però sai che cosa puoi fare sai che cosa vuoi davvero e inizi a renderti conto che puoi sopportare tutto persino la bellezza dei tuoi sogni che si realizzano bellissimo questo mi auto questo ogni tanto me lo leggo dico wow perché questo senza falsa ma questo mi è uscito bene io non sono sempre contento io sono molto critico questo pezzo quando lo sento leggere dico è uscito bene persino la bellezza sì e sai cosa questo è il pezzo secondo me più triste di tutto il libro è un pezzo tristissimo questo se ci pensate bene perché volete che vi rovini il Natale avete voglia? tanto guarda il Natale diciamo che prima o poi si roviglia tanto esatto esatto perché è triste esatto perché è triste perché è un dato di fatto che noi la maggioranza delle volte in cui ci impediamo di fare cose che sappiamo in cuor nostro di voler fare ok ci impediamo di farle per paura di perdere il consenso altrui l'amore altrui o comunque l'apprezzamento altrui è una cosa tristissima cioè limitarsi perché hai paura di vedere io l'ho fatto con mio padre questo pezzo qua nasce dal mio smettere di parlare a casa la domenica dei miei successi perché vedevo la faccia di mio padre che ci restava male che è una cosa bruttissima tu parli di una cosa bella vedi lui che comincia dopo un po' perché la tavola con i parenti sorella cognato nipoti capita per mestiere per indole che quando io comincio a parlare poi tendo a catalizzare l'attenzione ma voglio dire a casa mia io pensavo racconto i fatti miei saranno tutti molto felici mia madre mi chiedeva quelle cose lì mia sorella una mia grande fan insomma ok e lui dopo un po' vedevo che proprio cioè ci rimaneva male ma non perché non mi volesse bene secondo me perché non non mi ha mai capito mio padre mi diceva che ero strano perché non riusciva a contenermi e ero diverso da lui da come forse avrebbe voluto che io fossi volevo un figlio che non so giocasse a pallone io non amavo giocare a pallone volevo un figlio che fosse un po' più boh non so diverso e quindi non mi capivano tanto bene e quindi io vedevo che si scazzava a certe volte sbuffava e diceva vabbè allora se dovete parlare di questo io me ne vado e io ho smesso di raccontarmi perché avevo paura di vedere la sua faccia allora parlavo di cazzate in modo che lui fosse lì sorridesse papà allora com'è andata e facevo i discorsi che piacevano a lui e questa cosa anche a voi di sicuro succede infatti quando dico il test il test che rovina il natale provocatoriamente poi sai però pensate al vostro sogno più bello al vostro progetto più grande a qualcosa che mi promuovono vinco a super enalotto mi sposo mi fidanzo non lo so i vostri sogni belli ok e pensateci pensate di realizzarlo e pensate alle prime tre persone che vi vengono in mente a cui non avreste voglia subito di raccontarlo per paura dei loro sorrisi finti perché ce li avete almeno tre persone a cui non vorreste subito raccontarlo perché dici magari ci resta male magari vedo il sorriso finto sul suo volto magari vedo il comprimento di circostanza ecco e di queste tre persone due hanno il vostro cognome e una almeno vive con voi ecco buon Natale però pensateci capito passiamo alle domande ma quello che dico circondatevi di persone che sono veramente contente quando state bene cos'è? la domanda adesso arrivano le domande adesso arrivano passiamo alle domande passiamo alle domande abbiamo Don Giovanni un applauso per anche tu ok si nota si notano le persone che lavorano con me perché hanno questo amore per i colori vedo che però io ho messo le scarpette bianche stasera quindi un pezzo di colore ce ne sono tantissime pesca a caso pesca a caso poi le altre le faccio un po' in settimana dai va bene perché non riesco a costruire un progetto con qualcuno mi dicono che sono troppo pretenziosa puntini sarà così? vedi? che cazzo di domanda ecco perché sono anonime questa è proprio la tipica lo dico un po' in inglese question of the mink cioè c'è la domanda che è una domanda sbagliata perché ecco come fai allora passami il foglietto perché ci sono anche delle virgolette allora allora perché non riesco a costruire un progetto con qualcuno ma io voglio sapere che cazzo di domanda è a cosa vuoi che pensi il tuo cervello al fatto che non sei capace di costruire un progetto che cosa vuoi che ti risponda ti risponderà perché non sei capace perché non sei brava perché ti puzza l'alito perché di qua che cosa vuoi che ti risponda se la domanda è fatta male ti risponde male e poi ti dai anche la risposta dicono che sono troppo pretenziosa quindi che cazzo me lo chiedi a fare se fai la domanda almeno falla senza darti la risposta non è una battuta io faccio queste provocazioni Francesca perché questo poi diventa il nostro biglietto da visita per una vita di merda ma se lei avesse scritto come posso fare a costruire una relazione per esempio vorrebbe andare no? addirittura è come posso stare così bene anche da sola da non avere bisogno di chiedere come si costruisce una relazione perché delle relazioni non me ne frega un cazzo però lì non sarebbe vero perché lei la vuole pensa pensa di volerla quando siamo ossessionati dalle relazioni con gli altri perché non abbiamo una relazione buona con noi stessi quando hai una relazione buona con te stesso la relazione con gli altri è un plus o plus a seconda che le piaccia l'inglese o il latino dico sempre io l'amore non colma i vuoti impreziosisce i pieni non puoi stare bene con qualcuno se non stai da dio con te stesso questa è una domanda sbagliata e adesso vi ho spiegato anche perché e mi auguro che sia di sprone per tutti perché questo giochino qua delle domande che a me costa ve lo dico in termini energetici e anche economici perché io per fare questa cosa quest'anno muovo l'ufficio ho investito nei materiali ho porto le persone con me perché lo faccio perché il mio modo di rendere grazie a voi che venite a ascoltarmi e spero che uno esca di qua con qualcosa di figo in testa investo su di voi investo su di noi però ricordatevi questa domanda perché quanti se la pongono uguale torna a casa tu che me l'hai scritta dicendo cazzo e non sono tornato a sentirlo per sentirle su tanto è anonimo ecco l'importante che se sono domande anonime poi quando ne leggo una non ah io io l'ho detta io perché è successo a volte dico anonime poi la leggo è mia dico che cazzo questa molto bella va bene pesco io ok 20 dicembre cominciamo con la data ok nel libro la parola magica ci rispondi perfettamente a una domanda che mi sono sempre posta com'è possibile magia allora dice nel libro la parola magica mi rispondi perfettamente a una domanda che mi sono sempre posta com'è possibile magia ti sei risposta cioè ma cosa chiedete a fare a me se avete già la vostra risposta dov'è la domanda non è una domanda per colpire per colpire non lo so però boh magia sì magia la parola magica ma cos'è la magia se non quello che non sai spiegare in altro modo però vedete quando io dico che faccio il programma della domenica e non ottengo domande virtuose non è una battuta sono due su due se tu hai la domanda agganci la risposta io non ti posso rispondere mi hai già comunque fottuto il cervello devo rispondere eh dov'è la mia libertà di risponderti se mi hai già suggerito la risposta tu e quando lo fate con gli altri che fate le domande poi gli date la risposta cosa volete che vi rispondano quello che voglio avete suggerito dov'è la libertà di parola in questo senso attenzione a quello che chiedete a come lo chiedete dai fammi divertire cosa ne pensi del detto domandare lecito rispondere cortesia Loredana ho detto anonimo allora domandare lecito rispondere cortesia allora ti dico cosa ne penso dal punto di vista sociale sicuramente è una regola accettabile domandare lecito rispondere cortesia cioè dovrebbe essere però non l'amo tantissimo perché per esempio mi vincola un po' al fatto perché me l'hai chiesto io debba comunque risponderti in realtà io posso scegliere deliberatamente di non risponderti o perché la domanda è mal posto perché la domanda non la trovo interessante o perché mi stai sul cazzo e io rivendico io rivendico la libertà di non parlare con le persone grazie io rivendico la libertà di non comunicare efficacemente con tutti io con qualcuno non ci voglio comunicare e ma ti ho fatto la domanda mi devi rispondere no muori non ti voglio rispondere e poi aggiungo grazie dai questa parola vi incattivisce bene buon Natale per inesistono e poi però aggiungo che invece se la mettiamo dal punto di vista neuroscientifico domandare lecito rispondere a un obbligo cioè non c'è domanda a cui il cervello non risponderà ecco perché dovreste stare molto attenti a cosa vi chiedete nessuna domanda resta senza risposta mai non per cortesia per costrizione biologica se io ti chiedo cosa vorresti mangiare domani a cena te non è che mi rispondi per cortesia perché in te è stato un suono di un telefono può essere no è una mia cosa allora devo ricordami Giovanni aumenta le pillole dai ok ancora un paio secondo me poi firmiamo un po' di copie come si fa a prendere una decisione importante per il proprio futuro non sapendo come sarà il nostro futuro beh però no si come si fa a prenderla allora la si prende ma sai che tu mi avevi fatto allora perché io sul colline ho fatto due o tre interviste una delle quali ma la mia era la più bella era quella su Bill Gates anche no non era quella ok perché una volta una tua non era niente di che come intervista però mi chiese si parlava di Bill Gates il fatto che leggeva i libri e mi chiese come fai a leggere tanti libri in un mese io risposi e lei ci rimase un po' male leggendo ma no ma spieghi meglio dico e ho detto cioè vuol dire che non ho spiegato bene e che cosa devo rispondere si legge leggendo si cambia cambiando si scrivono libri scrivendoli si prendono le decisioni prendendole non è una battuta però questa domanda intelligentissima cosa fa mi fa parlare di uno dei vizi principali dell'essere umano cioè la pretesa totalmente infondata di poter in qualche maniera prevedere l'esito delle nostre azioni questa roba ci frega noi non possiamo sapere niente non possiamo prevedere niente niente è tutta storia io lavoro come consulente aziendale ok quando mi dicono ma facciamo i forecast cioè le previsioni di vendita o altro e i budget dico sì sì fateli è comunque da mettere nella stessa categoria dell'oroscopo di Paolo Fox è tutta non so se ci rendiamo conto che noi viviamo di storie viviamo di domani sera andremo al cinema è tutta una fantasia adesso faccio una battuta un po' tricky se volete però nella mia storia c'era stasera che dopo l'evento sarei venuto a fare questa cosa a momenti il tassista mi ammazza cioè e non è cinismo fatalismo è un dato di fatto quindi proprio perché non puoi sapere mai l'esito delle decisioni che prendi prendila punto come si fa a prendere la decisione importante la fai non la prendi la fai pensa alla prima cosa che ti viene in mente che faresti se tu l'avessi vi do il barbatrucco come si fa a prendere la decisione importante pensa alla prima cosa che faresti se tu l'avessi già presa falla e la decisione poi la prendi dopo è un po' come il coraggio compare dopo un po' come le ali che spuntano in volo le ali spuntano sempre in volo ci aspetti che ti crescano le ali per volare non voli mai grazie guarda io leggo l'ultima poi firmi dai dai però una strong ne voglio una gagliarda senticene una lunghissima anche un po' no lunghissima no no sì dai no dai dai c'è anche il sorriso alla fine poi mi commuovo mi sento in colpa il prossimo libro sarà chiedi bene però con una certa velocità allora circa un anno fa mi sono svegliata con una improvvisa ipoacusia 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 sì ipoacusia grave è una forte acufenia che non mi ha più lasciata la stessa sera ho scoperto anni di tradimenti del mio compagno tu che sei una persona di scienza di scienza tra virgolette credi che le due cose siano legate cosa ne pensi se lo ritieni necessario mi correggi la domanda sorrisino punti esclamativi sorrisino quindi aggressivo passivo aggressivo un po' e direi che la domanda la risposta che cosa posso rispondere io a uno che già la risposta ce l'ha eh l'insegnamento di questo libro è che il 99% delle domande che noi ci facciamo non funzionano perché contengono dove cioè dov'è la liberazione se voi allora evocare un frame lo rinforza George Lakoff è la mia frase preferita ogni cosa che dite diventa parte della vostra realtà ok una volta che tu nomini qualcosa questa cosa esiste le cose non le nominate perché esistono esistono perché le nominate se non lo nomini non c'è se lo nomini c'è nella misura in cui tu fai già una correlazione tra quello che ti è successo e quello che pensi sia il significato di quello che ti è successo non c'è domanda perché il tuo cervello ha già preso una strada è già in un binario è già in un campo e ogni cosa che io ti potrei dire comunque andrebbe a contraddire l'idea che ti sei già intimamente formata o formato adesso non mi ricordo se il genere era maschio o femmina quindi anche in questo caso non è che ti devo correggere la domanda poi attenzione se lo ritieni correggimi la domanda cosa ne pensi cosa vuoi che ne pensi ma hai già detto tu la risposta ormai il mio cervello è viziato dal fatto che cavolo ci potrebbe essere una correlazione in realtà non lo so perché magari ti è venuta l'acufenia o problemi all'orecchio perché hai sentito tua madre che ti insaccava di insulti o perché hai sentito Conte che faceva il discorso in televisione e a me veniva sempre i fischi nell'orecchio ogni volta che parlava Conte perché stavo malissimo che cazzo ne so cosa ne so però tu lo sai tu pensi che sia quello quindi ok anche per me va bene così allora anche perché ogni cosa è reale anche quando non è vera la domanda è vera ti fa bene pensare così ti fa bene pensare di avere una premonizione o che il tuo corpo ti abbia segnalato le corna del tuo compagno io non penso che ti possa fare bene non penso che ti possa fare bene pensare di poter prevedere i comportamenti altrui da quanti cazzo ti fischiare nelle orecchie non penso che possa farti bene una cosa del genere ti responsabilizza troppo punto però con il sorrisino quindi dai ancora una ancora una poi firme io posso stare qui fino a mezzanotte ma penso mi caccino fuori poi pesco io pesca tu non la puoi fare eh sì sì no comunque ci stanno le domande qua le dovevi mettere qua no 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 però falla ma dai fammela però è bella non è una roba provocatoria che sì 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 ok si può domanda più che sensata non si può prevedere nulla è la mia provocazione sul fatto che tecnicamente non potremmo farlo ok io prevedo che domani sarò a Roma potrei morire domani mattina cioè in questo senso ok prevedo che la mia scuola avrà un grande successo come prevedevo che fosse lo racconto spesso ho perso una scuola ho ristrutturato l'ambiente il budget era perfetto la gente veniva e poi è uscito il covid cioè in quel senso quindi se io faccio un'analisi linguistico cognitivo comportamentale di una persona un profilo posso idealmente prevedere con un buonissimo margine di approssimazione diciamo così quello che potrebbe essere il pattern il comportamento futuro io più o meno so che se parli così ti muovi così fai così eccetera eccetera più o meno mi aspetto questa cosa so che se sei in una sala cioè so che la seconda fila ha un tenore ormonare diverso dal tuo perché loro hanno il lampadario in testa e tu no e il suo sistema nervoso centrale ha un po' più di cortisolo rispetto al tuo questo lo posso prevedere poi esiste sempre e ci sono arrivato dopo tanti anni di lavoro e di virgolette come hanno scritto prima scienza sono arrivato al fatto che esiste un buon margine di prevedibilità ma siamo sempre comunque oggetto dell'imponderabile in questo senso ok quindi possiamo avvicinarci a prevedere poi anch'io prevedo che se faccio una campagna di marketing per vendere 10.000 copie prevedo che succeda e di fatto succede però metto in conto anche il fatto che potrebbe non capitare ecco la drammatizzo un po' però questo era il senso ok ho risposto sono un po' fatalista io poi no io spero di arrivare domani sera a Roma a fare serata e lo dico in senso prevedo che farò una grande serata però adesso fuori di battuta io che cazzo ne so saluto mia figlia al telefono prima di mettermi in taxi e questo momento mi ammazza cioè dopo due minuti passava il tram cioè non è per drammatizzare però dico cosa potevo prevedere poi certo prevedo che se arrivo in orario a Torino prendo il taxi prendo il treno più o meno ci arrivo però invecchiando o maturando ho sempre messo dentro un margine di chi lo sa ok in questo senso e qual è la domanda fondamentale che dobbiamo possiamo porci dipende da cosa volete raggiungere non c'è una risposta la domanda fondamentale che puoi porti è quella che ti serve in quel momento per raggiungere il tuo altro quando che è un mondo perfetto in cui starai un po' meglio di così non c'è per me la domanda fondamentale è vuoi vivere quando ne parlavo prima a settembre fino ad agosto ho fatto degli esami con cardiologo ecografo eccetera e il riscontro non è stato buono i valori erano tutti quanti sballati e il cardiologo mi ha detto vuoi vivere? vuoi vedere tua figlia andare a scuola? io ho detto che cazzo gli domanda? fondamentale? minchia se era fondamentale sono uscito mi sono comprato l'apple watch un glucometro e mi sono messo a dieta e mi sono scritto in palestra fondamentalissima vuoi vedere tua figlia andare a scuola? fondamentale quando ho riletto il mio libro in audible c'è un capitolo dove si parla di me stavo vivendo una situazione sentimentale difficile molto difficile con le cose che sai che devi cambiare ma che non hai a volte la forza di fare perché faccio parte del gran club delle persone che a volte fanno fatica a vivere ok rileggo il mio pezzo lo stavo rileggendo in audible mi sono sentito male perché l'ho riletto ho detto mi sono detto ma come ti permetti di comportarti così quando dice alle persone questo mi sono sentito male mi sono sentito proprio fisicamente male ho dovuto interrompere la registrazione mi sono chiesto come ti permetti perché per me essere autentico per voi e congruo con quello che dico è basilare cioè parlare bene essere bravo cioè in questa roba qua che vi insegno mi piace essere credibile la domanda fondamentale per me è stata come ti permetti di trattarli così voi voi potete dire i lettori ho fermato la registrazione sono uscito ho fatto una chiamata che è quella che sapevo in cuor mio di dover fare da un po' di tempo chiuso la situazione in una chiamata e una domanda quindi qual è quella fondamentale quella che ti serve adesso quella che oggi ti serve per andare da qualche altra parte perché se me l'hai chiesto qualcosa da sistemare cioè se siete qua qualcosa da sistemare ce l'avete se no non avreste comprato un libro che si chiama chiedi bene e non sareste venuti a Torino a sentire uno che parla al di là del mio incredibile fascino e lo capisco ok sì sì sto ricevendo due complimenti tantissimi anche da uomini uno non c'eri tu no hai la regione Lombardia no non c'è un tizio mi dice volevo dirtelo mi piacciono le donne dico ok già è una premessa stranissima però quando parli sei così affascinante che mi fai innamorare di te ho detto grazie che è un uomo e voi qualche problema io dico sempre la gente è super felice super contenta i miei libri non li compra nel mio reparto della libreria non ci entri però con la gente lì a me fa un po' paura fanno paura perché sono inconsapevoli quindi voi siete ah aggiungo siete la miglior presentazione di questo libro che ho fatto a Torino sono molto felice di essere qua e di esserci arrivato vivo fra l'altro madonna veramente la sera poi in camera d'albergo mentre solida sai quando fai il rewind degli episodi comincerò a pensare a dire ok no fa strano perché ho fatto la video call con la mia bambina e la piccola pensare che dici cazzo poteva essere l'ultima chiamata io questa roba qua io poi sono molto aureliano da questo punto di vista però stasera ci penserò un po' e domani vivrò meglio sarà una serata che ci ricorda sarò guarda posso dire che sono in un albergo qui a Torino da solo farò una notte di fuoco sarò così cazzo 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 ordinerò il servizio in camera di tutto beh certo però no perché il dolce non puoi mangiarlo sennò diventa il diabete il lattoso non puoi mangiarlo sennò ti viene le iconiche che cazzo devo mangiare i tavoli la moquette ordinerò della moquette gli anacardi quelli fanno benissimo un po' pesanti avete un po' gli anacardi per me che sono senza no vero ce l'hai vedi che nonostante siamo a Torino però uno però uno vabbè hanno fatto peggio a Genova l'anacardo iconico però un po' pesantino ma vai l'anacardo fa dimagrire io ho avuto una discussione su Raiuno fra l'altro con un nutrizionista che mi ricordo non si chiama eravamo un po' scherzosi lui faceva tutta la roba io gli dico beh gli anacardi fanno dimagrire e lui no Paolo perché hanno cominciato a menarmi la con e perché sono grassi perché gli ho detto senti un attimo siamo d'accordo sul fatto che gli anacardi sono un precursore del triptofano che è una sostanza che fissa la serotonina lui fa sì sì certo dico ok siamo d'accordo che quando le persone sono stressate producono cortisolo e il cortisolo favorisce voglio dire l'accumulo di grassi a livello anche epatico quindi fa sì 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 siamo d'accordo sarai d'accordo con me dico quindi se uno ha tanta serotonina è più facile che dimagrisca sì sì sono d'accordo alla terza come c'è da dire vabbè cambiamo il discorso gli anacardi posso dire però che fanno diventare molto molto bravi con le parole bene allora io mangiate anacardi adesso noi ci salutiamo io però prima che ci salutiamo volevo che ci dicessi one shot bene cos'è il bene il tuo bene questo bene quando adesso mi devo chiedere bene me la faccio bene questa domanda cosa devo pensare cosa ci dobbiamo focalizzare in due parole questa è una bella domanda perché se ci devo pensare è una domanda bella bene dovrebbe essere la domanda che ti porta nel posto del cuore ecco la domanda che ti porta nel posto dove vuoi andare davvero quella è la domanda buona grazie grazie Francesca a voi grazie a voi Grazie.